Ma perché a me il Maseo non mi aveva proposto Di andare tipo a un A un posto che si chiama Tipo Welcome O una cosa del O chi era il Ciacrone Non mi ricordo ma mi avevano proposto di andare tipo A un bar strano A In Svizzera o in Austria Che è tipo con tutte puttane Mi fa dai fazzonamo Ma che cazzo me stai a proporre Ho detto qua Se stiamo per strada ci potevo andare A me non ci sono problemi Mi ha fatto venire